Si rinnova ed amplia la Commissione Pari Opportunità Provinciale, con alcune novità. Sarà composta da 13 persone, delle quali un rappresentante per ogni comune della provincia, 7 al massimo nominate della provincia, parte delle quali provenienti dal mondo delle associazioni, e almeno due ex commissarie. Elementi qualificanti saranno l'età, si punta sui giovani, e la competenza nei settori economico, culturale, sociale e sanitario. L'obiettivo è di far sì che la Commissione diventi un organo consultivo per la Giunta, nonché per la Presidente Maria Teresa Bassaporopat, che ha la delega alle pari opportunità. Io ritengo che si debba fare ancora molto per quanto riguarda il tema della parità o dei pari diritti delle donne. Ci sono tante professioniste nei diversi settori, donne singole, che credo possono dare un valido contributo anche a ripartire, direi per questo secondo mandato, con progetti che vengono poi condivisi con l'amministrazione. Le domande scaricabili dal sito della provincia e reperibili all'URP dovranno essere presentate entro il 12 settembre. Le candidature saranno poi raccolte dall'ufficio di Presidenza e trasmesse alla conferenza di Capigruppo per essere esaminate. Sarà poi la Presidente Poropat con un decreto a nominare la nuova Commissione.